Gioisci, Regina del Cielo, Alleluia, con lui che ha portato nel grembo, Alleluia, è risorto, Alleluia, Alleluia, è risorto, Alleluia, Alleluia, è risorto il Signore davvero, Alleluia, l'aveva promesso da tempo, Alleluia, è risorto, Alleluia, Alleluia, è risorto, Alleluia, Alleluia, Gioisci, Regina del Cielo, Alleluia, e prega il Signore per noi, Alleluia, 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 alleluia. Un buon pomeriggio a tutti, coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook della Parrocchia dello Spirito Santo e sulla pagina Facebook della Cittadella Sanguis Christi. Siamo qui nella comunità delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo a vivere, così possiamo dire, una Pasquetta spirituale, un modo diverso per sentirci uniti e per vivere un momento di preghiera. Reciteremo il Santo Rosario e vivremo la Messa del lunedì tra l'ottava di Pasqua. Viviamo nella luce della Risurrezione e sempre un unico grande giorno di Pasqua. Vogliamo affidare ancora una volta le nostre preghiere, le nostre intenzioni e allargare il cuore a coloro che continuano a vivere nella sofferenza, ma chiedere al Signore quella forza, quella speranza, quella determinazione che è propria degli uomini e delle donne della Risurrezione. Vogliamo insieme sentirci uniti, in comunione, come gli Apostoli e Maria nel Cenacolo, e offriamo la nostra preghiera. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'Angelo a Maria. L'Angelo, entrando da lei, disse Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri territori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mamma di Dio, prego ai cagliatori e ai cagliatori, a te e in l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mamma di Dio, prego ai cagliatori e ai cagliatori e ai cagliatori, a te e in l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo, ed esclamò a gran voce, benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era del principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amén. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Vi annuncio una grande gioia, che sarai di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per noi un Salvatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Danci oggi, il nostro male quotidiano, rileviamo a noi i nostri debiti, come noi rileviamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma rileviamo dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse, Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo Padre e Dio, angosciati, ti cercavamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri verbiti, come noi rimettiamo ai nostri dettori, e non ci inturre in tentazione, ma a liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te, a te, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore e pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Padre Celeste Dio, Figlio Redentore del mondo Dio, Spirito Santo Dio, Santa Trinità Unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Madre di Gesù, Madre di ogni creatura redenta, Madre della Chiesa, Sposa fedele dello Spirito Santo, Maria, Maria, corredentrice nella passione del figlio, Maria, beata nella risurrezione, Maria, modello di vita sacerdotale e religiosa, Maria, regina del cielo e della terra, Maria, donna dell'accoglienza, Maria, donna di pace, Maria, donna dell'abbandono alla volontà del Padre, Maria, donna dell'ascolto, Maria, donna di speranza, Maria, madre di misericordia, Maria, donna di carità, Maria, donna della nuova alleanza, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Prega per noi, Santa Madre di Dio, Preghiamo, O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo figlio e innalzato sulla croce fosse presente la sua madre addolorata, aiutaci a completare in noi, per la Santa Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo, affinché associati con Maria alla sua passione, partecipiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Secondo l'intenzione del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amén. Grazie. 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 Grazie a tutti. Gesù è il Signore della vita, morte dov'è la tua vittoria, paura non mi puoi far più. Se sulla croce io morirò insieme a Lui, poi insieme a Lui risorgerò. Cristo è risorto veramente, alleluia, Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore risorto sia con tutti voi. Vogliamo vivere anche in questa Eucarestia la Pasqua del Signore. È il lunedì dell'ottava di Pasqua e per cerquanta giorni sarà sempre Pasqua. Vogliamo entrare in comunione con il Signore, chiedendogli ancora la sua misericordia su di noi, sulle nostre fragilità. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, semprevergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Dio Onnipotente, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così Uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni Che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte Perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere Dice infatti Davide a suo riguardo Contemplavo sempre il Signore innanzi a me Egli sta alla mia destra perché io non vacilli Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua E anche la mia carne riposerà nella speranza Perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi Ne permetterai che il tuo santo subisca la corruzione Mi hai fatto conoscere le vie della vita Mi colmerai di gioia con la tua presenza Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente Riguardo al Patriarca Davide Che egli morì e fu sepolto E il suo sepolcro è ancora oggi fra noi Ma poiché era profeta E sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente Di far sedere sul suo trono un suo discendente Previde la risurrezione di Cristo e ne parlò Questi non fu abbandonato negli inferi Né la sua carne subì la corruzione Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato E noi tutti ne siamo testimoni Innalzato dunque alla destra di Dio E dopo aver ricevuto dal Padre Lo Spirito Santo promesso Lo ha effuso Come voi stessi potete vedere e udire Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Proteggimi o Dio In te mi rifugio Proteggimi o Dio In te mi rifugio Proteggimi o Dio In te mi rifugio Ho detto al Signore Il mio Signore sei tu Solo in te è il mio bene Il Signore è mia parte di eredità E mio calice Nelle tue mani è la mia vita Proteggimi o Dio In te mi rifugio Benedico il Signore Che mi ha dato consiglio Anche di notte il mio animo Mi istruisce Io pongo sempre davanti a me Il Signore Sta alla mia destra Non potrò vacillare Proteggimi o Dio In te mi rifugio Per questo gioisce il mio cuore Ed esulta la mia anima Anche il mio corpo Anche il mio corpo Riposa al sicuro Perché non abbandonerai La mia vita negli inferi Ne lascerai che il tuo fedele Veda la fossa Proteggimi o Dio In te mi rifugio Mi indicherai il sentiero della vita Gioia piena alla tua presenza Dolcezza senza fine Alla tua destra Proteggimi o Dio In te mi rifugio Alleluia 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 Questo è il giorno fatto dal Signore Rallegriamoci ed esultiamo Alleluia 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 sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse, salute a voi. Ed esse si avvicinarono, li abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo, dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. abbiamo ascoltato questa sera un bellissimo Vangelo della Risurrezione. Sono le stesse donne che erano sotto la croce con Maria. Le stesse donne che sono chiamate a lasciare in fretta il sepolcro con timore e grande gioia per annunciare ai discepoli quello che loro hanno visto, una tomba vuota. Sono timorose, allo stesso tempo dubbiose. Che cosa dobbiamo fare? Ma che cosa è successo? Gesù è stato rubato? Dobbiamo andare a denunciare quello che è avvenuto? Cosa dobbiamo fare? O conviene di più andare dai discepoli e raccontare quello che hanno visto? e mentre loro sono paurose e dubbiose, ecco che è Gesù che si avvicina a loro, che va al loro incontro. È Gesù che dice a loro salute a voi. Ed esse che fanno? Si avvicinano a Gesù e gli abbracciano i piedi e lo adorano. Quei piedi che hanno le ferite della risurrezione. I piedi perché i piedi sono il simbolo del loro impegno che è quello dell'andare ad annunciare che Gesù realmente è risorto. E questo annuncio sono chiamato, sono chiamato a farlo ai fratelli in Galilea. Là mi vedranno. Allora loro che cosa fanno dopo questo incontro con Gesù dopo aver abbracciato loro i piedi e dopo aver adorato i suoi piedi, i piedi della risurrezione, i piedi feriti dai chiodi si mettono in cammino. Mentre sono in cammino ci sono delle guardie che giungono in città e annunciano ai sacerdoti tutto quello che è accaduto. Che cosa avviene? In realtà gli anziani si riuniscono, si consultano tra di loro e pensano di dare una somma di denaro ai soldati dicendo che erano stati proprio i discepoli ad andare di notte e a rubarlo mentre dormivano. Ancora una volta si vede qui e intravediamo l'esperienza di chi cerca in tutti i modi di camuffare la verità e di non voler accettare quello che doveva essere proprio l'identità di Gesù. Gesù doveva morire e risorgere. Queste donne, l'esperienza di queste donne che sono chiamate ad annunciare la risurrezione di Gesù sono chiamate ad essere annunciatrici della vita. Una vita nuova, una vita che nasce proprio dalla morte e lo stesso chicco di grano che è caduto in terra porta frutto. E il frutto è la vita è questa vita che nasce, che ha una fine, ma è una vita che nasce nuova perché nasce dall'esperienza proprio della risurrezione di Gesù. Che cosa vuol dire tutto questo? Noi quando pensiamo alla vita pensiamo subito a un bambino che nasce, al bambino che piange tra le braccia della mamma, pensiamo subito ai giovani e raramente ci viene da pensare a quelle che sono più le esperienze di sofferenza. Ma la vita che risorge è un dono nuovo, è un dono nuovo che ha un aspetto nuovo e l'aspetto della vita che nasce è quella che viene fuori dal sepolcro. Gesù esce dal sepolcro, Gesù lascia vuoto il sepolcro e il lasciare vuoto il sepolcro non è altro che proprio la testimonianza della sua risurrezione. Gesù non è stato rubato, non è stato rubato né dai soldati, non è stato rubato dai discepoli. È proprio la testimonianza della sua risurrezione. Ed è così che anche noi oggi siamo chiamati in questo tempo in cui dobbiamo combattere e lottare contro la malattia e contro la morte siamo chiamati ad essere annunciatori e annunciatrici di vita, ad avere il coraggio e a dare coraggio in tutte quelle che sono le esperienze di precarietà e di povertà. A vivere accanto a chi vive ferite ferite di un lutto, ferite di un distacco a causa del coronavirus, ferite di distacco da affetti perché persone sono lì ricoverate in ospedale e non si possono trovare. Siamo chiamati a portare la vita facendo scelte diverse perché oltre alla sanità, alla malattia e alla morte noi oggi siamo chiamati a riflettere anche sull'esperienza di tutte quelle famiglie che stanno cadendo in povertà e noi siamo chiamati con la vita, con la testimonianza e con azioni concrete ad essere presente in queste realtà perché Gesù è risorto e Gesù chiama ciascuno di noi, come ha chiamato queste donne ad essere testimoni della risurrezione in ogni realtà, in ogni situazione senza renderci mai. Su questo altare durante l'Eucarestia portiamo la preghiera di tutti voi che ci seguite da casa, portiamo la preghiera di tutta la Chiesa, portiamo la preghiera del Santo Padre che oggi in particolare ha pregato per tutte le donne, soprattutto le donne che vivono una sofferenza, una violenza, una passione e vogliamo ricordarci dei defunti Alberta, Gino, Pasquale e Michele che affidiamo alla misericordia di Dio. benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome alleluia, 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 tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccesso, pure e potente, benedetto sei tu, benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome, pregate, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. accogli con bontà, Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla felicità eterna, per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio e veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, è Lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i ceni e la terra sono pieni della tua gloria, oh Santa, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, oh Santa, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendi la perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Leonardo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Alberta, Gino, Pasquale, Michele e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri, Santa Maria de Mattias, San Gaspare, San Nicola il Pellegrino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A Dio, nostro Padre, fonte di vita e di risurrezione, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è meglio, tua è la morta e 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 la morta. E con il tuo Spirito. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi i pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi i pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Voi che ci seguite da casa, vivete in questo momento la comunione spirituale, con qualsiasi preghiera, ma anche a parole vostre, chiedendo al Signore Gesù di venire spiritualmente dentro di voi. E voi disponetevi ad accogliere la presenza spirituale del Signore Gesù, perché questa comunione profonda vi porti davvero speranza e vita. Affidati al Signore tutto voi stessi e chiedetegli di entrare e di prendere possesso pienamente di voi, del vostro cuore, della vostra coscienza. Grazie. 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 diventare amore, segno della tua verità. Preghiamo. Diffondi nei nostri cuori, Signore, la grazia dei sacramenti pasquali, e poiché ci hai guidati nella via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono. Per Cristo, nostro Signore. Vogliamo salutare la Vergine Maria con questo inno che nel tempo di Pasqua cantiamo. Regina Ceni, Letare, Alleluia, qui acquem veru isti portare, Alleluia. Resurrexit, Sicut dixit, Alleluia, ora pronomis Deum, Alleluia. Godi e rallegrati, Vergine Maria, Alleluia. Il Signore è veramente risorto, Alleluia. Preghiamo. O Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo, nostro Signore, Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, voglio ringraziare la comunità delle sue adoratrici. Abbiamo trasmesso questa prima messa, magari nel tempo di Pasqua. Possiamo accompagnarvi, ecco, con le celebrazioni delle messe da questo centro di spiritualità, perché è anche bello vivere questo tempo, riscoprendo davvero il senso della vita spirituale. E quindi le ringraziamo e certamente, ecco, Suormimma vorrà comunicare anche qualche altra iniziativa, che il centro di spiritualità, in questo tempo dove, ecco, siamo chiamati a vivere anche a casa, non dobbiamo mancare anche di fare esperienza spirituale. Ecco, ringrazio Don Mimmo perché ci ha dato questa possibilità di vivere questa celebrazione eucaristica, condividendo questo tempo insieme, in questo centro dedicato in modo particolare alla spiritualità e alla formazione. Il nostro motto con l'inizio di questo tempo di Pasqua per tutta la comunità delle adoratrici, che in questa casa, è proprio riaccendiamo la speranza. E queste donne di cui abbiamo ascoltato oggi il Vangelo, ci guidano in questa esperienza. Per questo continuiamo in questa settimana, domani sera alle ore 19, con la lezione divina, e poi giovedì alle ore 20 e 30, un tempo di 15 minuti, proprio in cui saremo chiamati a riflettere sul tema della speranza. Seguiteci perché questo momento di spiritualità di confronto possa aiutarci e illuminarci in questo tempo. E grazie a tutti voi che ci state seguendo, rimaniamo uniti anche se a distanza. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Cantiamo a Maria. Gioisci regina del cielo, alleluia, colui che hai portato nel grembo, alleluia. E risorto, alleluia, alleluia, alleluia. E risorto, alleluia, alleluia. Risorto, alleluia, alleluia. è risorto, alleluia, alleluia, è risorto, alleluia, alleluia. Gioisci Regina del Cielo, alleluia, e prega il Signore per noi, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.